Alcuni dei risultati economici di Mediaset degli ultimi 5 anni, per esattezza dal 2019 al 2023. Mi avete sentito dire più volte che durante la pandemia noi abbiamo reagito e messo un altro passo. Bene, questi sono i risultati, devo dire che vederli insieme è abbastanza segno di ottimo lavoro. Abbiamo migliorato la nostra posizione finanziaria netta di 350 milioni di euro per il 33% del totale. Abbiamo generato utili pari a 940 milioni di euro e abbiamo distribuito dividendi a tutti i nostri azionisti per 755 milioni di euro. Direi che sono risultati che per chi fa l'editore in Italia danno veramente soddisfazione. Sono i migliori d'Europa, anche se il mercato italiano è uno dei più piccoli d'Europa. E poi non abbiamo ridotto l'occupazione. Su questo mi soffermo un secondo. Questa è stata una sfida. Io penso che provare a non ridurre, addirittura ad aumentare il livello occupazionale debba essere nel DNA di ogni imprenditore. Certo, non sempre è possibile. Noi ce l'abbiamo fatta. C'è stato un enorme ricambio, questo va detto, ma è anche positivo. Ma c'è di più. Questa cosa l'ho già anticipata al Corriere, ma ci tengo a ribadirla. Dall'anno scorso noi abbiamo lanciato un programma che prevede 250-300 ingressi completamente nuovi, cioè non di ricambio generazionale. ingressi che sono focalizzati su giovani, ragazze e ragazzi under 30. Abbiamo chiuso l'anno scorso con più di 300. Stiamo provando a fare la stessa cosa quest'anno e vogliamo e speriamo di riuscire a farla anche l'anno prossimo. Ci tenevo a dirvi questa cosa perché penso che si parla di investimenti, di strategie, ma per un'azienda oggi, e ripeto, più che mai, per un'azienda editoriale sempre, puntare sui giovani e sui talenti sia in assoluto il migliore investimento per lo sviluppo e per il futuro.